Salvaggiante e buona domenica e anche tanti auguri a chi magari professa religione ortodossa perché oggi è la Pasqua per loro, quindi non l'abbiamo festeggiata la settimana scorsa anche se poi io in realtà non l'ho festeggiata per i motivi che già sapete però oggi invece loro la festeggeranno quindi auguri e buona Pasqua per voi Questa sera è partita ragazzi, fondamentale, inutile dirlo, anche in virtù del risultato della Roma di ieri sera Il Milan cercherà ovviamente di non perdere terreno e anzi di risorpassare l'Inter l'Inter che si è portata adesso in avanti con una partita in meno quindi per il Milan è fondamentale la vittoria ma anche a Lazio serve una vittoria o quantomeno serve non perderla questa partita perché ci serve assolutamente in virtù delle ultime quattro partite insomma in previsione per le ultime quattro partite rimanere non più di un punto dalla Roma perché? Perché è fondamentale, veramente, si giocherà veramente per uno o due punti la posizione finale e che quindi due punti possono aiutarci a scavalcare la Roma un punto invece non, diciamo, recuperare in queste ultime quattro partite solo un punto non ci porterebbe da nessuna parte quindi bisogna essere staccati solo di un punto in modo che se dovessimo fare nei vari risultati magari a Roma un pareggio e noi una vittoria insomma riuscissimo a scavarcarla da un certo punto in queste ultime quattro partite ecco il perché è fondamentale anche solo un pareggio con il Milan quindi non perdere ma adesso ne parliamo un po' in modo più approfondito andando a vedere proprio quali saranno i prossimi incontri prima però ragazzi è un po' che non lo dico ma è scontato tu che stai vedendo questo video iscriviti al canale se ancora non ci si è fatto non ti costa nulla potrai sempre disiscriverti quando vorrai clicca, mi raccomando, sulla campanellina per rimanere aggiornato su tutti i contenuti quando YouTube ogni tanto magari non te la manda ne manco la notifica però diciamo che all'80% le notifiche arrivano semplicemente un avviso di dire nostra Famus ha messo un nuovo video tutto qui ricordo potrai sempre cancellarti quando vorrai se invece hai Instagram anche lì mi trovi con nostra Famus 76 insomma ragazzi piccoli gesti che non costano nulla per voi ma che sono importanti ovviamente per me e per il canale allora ragazzi andiamo a vedere quello che è interessante perché? perché in realtà diciamo il rush finale tra Roma, Lazio ma ci metterei anche Fiorentina e Atalanta è veramente al photo finish serve qualsiasi punto serve qualsiasi punto ed oggi è importante è importante appunto farlo almeno un punto perché? perché andiamo a vedere le ultime quattro partite ragazzi di ogni squadra che si sta giocando il quinto e il sesto posto più o meno più o meno Roma, Lazio e Atalanta hanno le quattro partite che un po' si equivalgono a livello di difficoltà forse un pelino di più Lazio e Atalanta hanno difficoltà perché incontrano nelle quattro la Juve e il Milan rispettivamente mentre la Roma la difficoltà ce l'avrà con la Fiorentina una partita dove qualcuno dovrà perdere punti per questo non metto la Fiorentina perché in realtà la Fiorentina ragazzi ha quattro partite molto complesse perché affronterà il Milan in trasferta questo è la Fiorentina Milan in trasferta la Roma poi la Sampdoria e la Juventus l'ultima in casa insomma sapete benissimo che tra Fiorentina e Juventus è una partita particolare quindi la Fiorentina sicuramente ha quattro partite complicate a parte la Sampdoria ma insomma potrebbe perdere terreno però ha la partita a Giogli ovvero il recupero della partita a mercoledì credo che si giocherà contro l'Udinese adesso sta per giocare contro la Salernitana dopo scontati i tre punti quindi vedete quanto è importante comunque diciamo che la Fiorentina potrebbe precipitare proprio nelle ultime giornate poi se non lo farà sarà allora meritatamente avanti a tutte perché se riesce a passare indenne queste ultime quattro giornate vuol dire che merita di andare avanti alle altre ripeto l'Atalanta invece che è un po' più dietro anche lei partita a Giogli mercoledì contro il Torino in casa tutte e due hanno le partite in casa quindi insomma anche un po' vantaggiate diamo per scontato magari che tutte e due hanno tre punti in più poi l'Atalanta avrebbe la Salernitana lo Spezia il Milan e l'Empoli l'ultima in casa tutte hanno più o meno due partite fuori e due partite in casa quindi in questo tutte e quattro sono identiche non ci sono chi gioca di più e chi gioca di meno in casa e come vedete l'Atalanta secondo me ha un calendario abbastanza abbordabile a parte il Milan che comunque si starà giocando lo scudetto probabilmente ancora non penso che avrà a meno che non crolla questa sera e poi crolla nelle prossime penso che fino alla penultima potrebbe giocarselo e quindi insomma è una partita difficile poi se invece l'Inter dovesse e il Milan dovesse uscire insomma dalla lotta scudetto già prima ovviamente l'Atalanta sarebbe agevolata perché a quel punto un Milan diciamo demoralizzato e scarico da non aver raggiunto l'obiettivo e ormai comunque diciamo in Champions matematicamente non credo che avrà tutti questi stimoli comunque quindi una diciamo quattro partite che potrebbero anche portare l'Atalanta momento in cui avrà anche i tre punti del Torino molto più avanti la Roma la Roma ha un Bologna Fiorentina Venezia Torino quindi diciamo ripeto a parte la Fiorentina Bologna Venezia Torino mi sembrano più che abbordabili per la Roma quindi se sta già avanti potremmo solo sperare in un rallentamento con la Fiorentina non è facile ragazzi non è facile per questo bisogna stare già avanti questa sera sono punti pesanti per noi perché la Lazio poi avrà in trasferta lo Spezia partita più che abbordabile in casa la Sampdoria altra partita che dovrebbe comunque essere diciamo per noi alla portata poi in trasferta la Juventus e lì ragazzi è proprio veramente difficilissimo difficilissimo bisogna vedere se la Juventus come arriverà a questa partita se già con il quarto posto matematico con quali infortuni con quali giocatori insomma bisognerà avere tanta fortuna secondo me per uscire da Torino con qualche punto e poi l'ultima col Verona in casa che comunque il Verona ragazzi più di una volta ci ha fatto male quindi non è una partita facile neanche quella quindi ripeto i punti li dobbiamo fare questa sera questa sera con il Milan anche se è difficilissimo ripeto per tante situazioni perché per il tipo di tifo che mancherà per quindi un supporto diciamo a livello proprio di rumore all'interno dell'Olimpico mancherà e il Milan non può perdere è una partita non lo so ragazzi veramente vediamo se le elezioni che ci ha dato il Milan nelle prime due volte sono servite a far capire a Sarri che magari buttarsi avanti così lasciare troppi spazi e scollarsi subito non è non è la mossa migliore finita ragazzi questo piccolo video in realtà vi ricordo ancora una volta per chi non avesse visto il video precedente che mercoledì 27 aprile alle 21 sul canale anomalie l'Italia occulta ci sarà la prima puntata di 6 puntate per quanto riguarda un format sul paranormale chi segue chi mi segue quello sa sono 11 anni che faccio anche ricerche sul paranormale ho un altro canale quello del GIAP gruppo investigativo attività paranormali vi invito però mercoledì sera alle 21 intanto andatevi a scrivervi all'Anomalia l'Italia occulta mettete un like così magari vi arrivano le notifiche e vi ricordano l'appuntamento ci sarà una diretta questa diretta ci sarà un piccolo diciamo introduzione alla puntata la puntata dura mi sembra 55 minuti secondo me è bella vale veramente la pena la prima puntata si svolgerà Poveglia sull'isola di Poveglia guardatela e poi dopo ci sarà una diretta con noi se state lì in diretta e volete fare domande risponderemo altrimenti comunque sono curioso anche su questo canale di avere vostre opinioni vi aspetto quindi mercoledì 27 mi raccomando ragazzi la qualità è superba di questa di questa serie quindi vi invito a mettere youtube sul televisore più grande che avete mercoledì 27 alle 21 e poi mi farete sapere se la puntata vi è piaciuta ragazzi non è la solita puntata del ghost hunter o del ghost hunting in generale è una puntata che parlerà anche molto del luogo che andiamo prima cercando di parlare della storia e di far conoscere questi luoghi e poi ci sarà anche il lato più paranormale per gli appassionati vi aspetto mercoledì e ragazzi ci vediamo presto sicuramente con il post partita di questa sera quindi per il momento li vedo oggi ciao ciao Grazie per la visione!